un pochino d'olio forse a livello buono alla fine a crudis e ve lo dico nemmeno van gogh nemmeno van gogh fa questi vadri dio se a qualcuno piace per sentire un po più di sapore un gocciolino di clorofila di zucchina sopra e siamo a posto il piatto è pronto si potrebbe far da mangiare da grandi si potranno assaggiare o bisogna mangiare i piatti